Cari ragazzi, benvenuti alla fine di questo secondo livello del corso di edizione online di Caruso Speaker. Adesso vi chiederò un feedback come è proprio tradizione alla fine di ogni livello. Gerardo Antonio Leonna, il nostro presidente dell'Ordine degli Architetti. Com'è stato Gerardo? Questo corso? Mi fai fare brutta figura con le nostre ascoltanti. No, però il fatto che tu veda vuol dire che... Aspetta, aspetta, taglialo, taglialo. Allora, per me il corso è completamente valido. Anzi, c'è sempre da parte mia la volontà di continuare e di migliorare. In questo secondo livello ho iniziato ad apprezzare ancora di più la mia voce e di non aver paura degli altri ad esprimermi. Questo è quanto volevo dire. Io sono commosso di questa cosa, Gerardo, perché vuol dire che da che la tua voce ti piaceva uno o due, adesso quanto ti piace la tua voce? Quattro. No, no, aspetta. Quattro. Quindi abbiamo praticamente triplicato, quadruplicato il tutto. Benissimo. Ok, quindi voce da uno a quattro. Beh, mi sembra un ottimo risultato. Soddisfatto, Gerardo, giusto? Certo. Per il momento. Ok, perfetto. E poi ci sarà il prossimo livello. Nel frattempo però concentriamoci su questo e chiederò alla bella Isotta di dirmi come ti sei trovata durante questo corso, che cosa ti sei portata a casa da questo secondo livello. Intanto rispetto al primo è molto più concreto. Il primo ti porta ad affrontare il secondo corso, però non vedi così tanto come nel secondo corso dei risultati effettivi e concreti, come sul secondo. E quindi il fatto di riuscire a leggere un testo e a dare un minimo di interpretazione a quel testo è stato bellissimo, insomma, molto bello. E anche avere le basi per riuscire a dare un'interpretazione e a leggere in modo corretto il testo. È stato molto interessante, veramente bello. Ok, e quindi quanto ti piace adesso la tua voce da uno a cinque? Quattro, quattro abbondante. Quattro. E quanto ti piace? Veramente tanto. Uno, due, non mi ricordo. Non ricordo nemmeno. Quindi possiamo dire... Ma veramente poco. Abbiamo quasi, ho triplicato, ho raddoppiato, giusto? Quindi missione compiuta. Ok, bene. Grazie Isotta. Allora, adesso, Andrea Spada, il nostro manager. Che cosa ci dice di bello il nostro manager? Il top manager di Milano. Figurati. Allora, si è riconfermata la validità del corso. Nel senso che tendo sempre a valutare le cose all'infinito. E quindi sono contento che il corso si sia riconfermato valido. In generale mi piace anche te come persona che la modalità con cui insegni. Ok, quindi sei molto empatico, incoraggi molto. Quindi questi sono tutti ovviamente dei plus, oltre ovviamente al discorso tecnico che è innegabile. E poi ho imparato nel mio piccolo a interpretare. Quindi abbiamo provato le poesie con l'interpretazione, cosa che mai fatta prima. E quindi sono, insomma, vedo che le cose stanno, sto comunque crescendo. E quindi ovviamente sono contento e ho intenzione di continuare. Questo è il mio feedback. Quindi perciò siamo tutti pronti per continuare il nostro terzo livello insieme. che sarà un terzo livello pieno di fuochi d'artificio perché impareremo ancora di più sulla prosodia, la lettura espressiva, impareremo che cosa sono le intonazioni, le aperture, le chiusure. In particolar modo il nostro Gerardo imparerà sempre di più a utilizzare la sua voce in maniera emozionale. Vero Gerardo che è quello che ci interessa quando trasformare la voce in uno strumento in grado di comunicare i nostri pensieri ma soprattutto le nostre emozioni. E ci serve perché tu sei il Presidente dell'Ordine degli Architetti, sei il Delegato Nazionale degli Architetti e quindi perciò è mia responsabilità darti tutti gli elementi e gli strumenti per fare il tuo discorso un discorso potente e che possa finalmente dare a tutti la speranza di un futuro, di un qualcosa che succederà. Alla bella Isotta, alla quale auguro di fare presto il mestiere di narratrice di audiolibri, nel secondo corso sicuramente impareremo tantissime altre cose riguardo al modo di leggere e interpretare, che è quello che a te interessa in particolar modo. Comunque nel frattempo continuiamo ad esercitarci, anche gli audiolibri, ascoltiamoli perché sono molto importanti, ci permettono anche di esercitare la nostra memoria sonora. Io stesso ho prodotto tanti audiolibri, poi adesso tra un po' ne produrrò un altro, potete semplicemente cercare Gianluca Caruso, Gianluca lo scrivono attaccato, anche se il mio nome è Gianluca, cercate Gianluca Caruso su Audible e su Storytel e sicuramente troverete tanti dei miei audiolibri che possono esservi utili proprio in funzione di quegli esercizi che abbiamo fatto insieme. Qualunque audiolibro vogliate leggere comunque, al di là dei miei, la cosa importante è che abbiate sempre un riferimento con il testo, cioè ascoltare gli audiolibri in generale fa bene se sono fatti da persone che sono dei professionisti, degli attori, dei doppiatori, degli speaker e professionisti quale il sottoscritto. Ci sono anche audiolibri che sono fatti da persone che lo vogliono fare per passione, ma a voi servono invece i professionisti da cui imparare. Già ascoltarli in sottofondo come se fosse una musica è già molto molto importante, perché vi dà la possibilità di educare le vostre orecchie, di educare il vostro ascolto. Ma se volete utilizzare quest'arma in maniera atomica, comprate il libro, magari su Kindle, che costa molto di meno, e abbinate il libro all'audiolibro. Cioè ascoltate l'audiolibro con il libro davanti, quindi mentre voi leggete, quindi con gli occhi leggete e con le orecchie ascoltate. E sicuramente questo sarà un grandissimo esercizio riguardo a quello che abbiamo fatto in questi mesi, riguardo le aperture, le chiusure e tutto quello che ci interessa riguardo la prosodia. D'accordo? Va bene? Ok. Allora, quindi, missione compiuta? Allora, se la missione è veramente compiuta, allora adesso vi invito a fare un ultimo esperimento insieme. Vorrei che, piano piano, stringendo il pugno della mano destra, perché la mano destra? Perché la mano destra è collegata con l'emisfero sinistro, che è la sede del linguaggio, della logica, della razionalità. Quindi se siamo adesso però dobbiamo essere illogici e irrazionali, ma al tempo stesso emozionali. E quindi vorrei che, piano piano, a bassa voce, dicesti assieme a me, io amo la mia voce. 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 Sussurato, sussurato. Io amo la mia voce. Io amo la mia voce. Io amo la mia voce. Bene, sta partecipando anche il cane. Anche a lui piace la nostra voce. Io amo la mia voce. Io amo la mia voce. Io amo la mia voce. Adesso, stringendo il pugno, alziamo un po' di più il volume. e carichiamoci sempre di più. Cominciamo a dire, io amo la mia voce. 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 E sempre stringendo di più il pugno, cominciamo a salire ancora di più di volume e possiamo dire che io amo la mia voce. 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 stringiamo ancora di più il pugno e possiamo dire io amo la mia voce io amo la mia voce ripetiamolo tre volte insieme uno due tre io amo la mia voce bene siete appena diplomati al secondo livello del corso di edizione online di caruso speaker adesso la vostra voce vi piace 4 ma la mia sfida sarà farvi piacere la vostra voce 5 ma questo lo faremo nel prossimo livello ciao